Un incontro condiviso che si è svolto presso il Museo Civico Archeologico Petrone di Vieste al fine di costruire con la collaborazione di tutti il progetto Andar per Mare, itinerari subacquei e costieri di Puglia. Il Centro Euro Mediterraneo per l'Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei, l'ESAC, nato a seguito di un accordo di collaborazione tra Regione Puglia, le tre università regionali e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, ha organizzato l'incontro. L'elemento di fondamentale importanza nella costruzione e raggiungimento dei risultati è rappresentato proprio dalla fattiva adesione degli attori del territorio interessati a collaborare con l'ESAC per mettere appunto una strategia condivisa per la gestione partecipata dei siti. Un incontro condiviso appunto aperto a tutti coloro che vorranno compilare un breve questionario con le attività svolte dalle organizzazioni su territorio con riferimento a siti, costieri, subacquei e non di valenza archeologica e genericamente culturale, ambientale e naturalistica.